Vogliamo approfondire queste persone, la vita di queste persone, vogliamo conoscerla a fondo, la vita delle persone che hanno deciso di dedicare se stessi per tutelare, per fare sicurezza ad altre persone. Allora, uno di quegli uomini che noi vogliamo definire uomini del dovere è ora qui in studio. Insieme a Gabriele Adunque c'è Giovanni Paparcuri, autista del giudice Rocco Chinnici, ucciso a Palermo il 29 luglio del 1983. È il momento di ascoltare la sua testimonianza. Sì, grazie Massimiliano. Partiamo proprio da lì. Partiamo proprio dal 29 luglio del 1983, quasi oltre 30 anni fa. Sono le 8.05 in via Pipitone 59, una tranquilla strada di Palermo. La mafia allestisce proprio come un grande spettacolo. È il primo attentato in cui viene utilizzato del Tritolo contro il giudice Rocco Chinnici, che tanto aveva capito della mafia, quello che insomma ha messo a punto, quello che è stato ribattezzato poi il pull antimafia. Un grande cratere, Palermo come Beirut, 17 feriti tra cui due bambini, quattro corpi sfigurati, le lancette dell'orologio, per molte di quelle persone si sono fermate per sempre, per altre persone come Giovanni Paparcuri, a cui do il benvenuto, tornano sempre lì. Giovanni, partiamo proprio da quella mattina, una mattina apparentemente come tutte le altre, sveglia alle 7. Lei decide di non fare colazione a casa, ma di farla con i suoi compagni. Chi erano questi uomini? Salvatore Bartolotta, Mario Trapassi e che rapporti avevate? Allora, sono un pochettino, ricordando quei momenti mi emoziono un pochettino, quindi chiedo un po' scusa in anticipo. E oltre ad avere rapporti professionali, sia con l'appuntato Bartolotta, che in realtà era appuntato, mi chiamavo maresciallo per rispetto e con Trapassi, oltre ai rapporti professionali c'erano i rapporti anche di amicizia. Perché se tu passi con questi ragazzi più di 12 ore al giorno assieme e condividi paure e preoccupazioni, poi diventi amico, dividi anche le tue giornate di libertà. Infatti con Trapassi facevamo parte della stessa squadra e ho anche delle fotografie con il capitano, addirittura il capitano D'Aleo, che purtroppo nella nostra squadra anche lui è stato ucciso. Al di là di questo, al di là del rapporto lavorativo, si instaurava un rapporto di amicizia perché poi la fiducia era reciproca, quindi si rafforzava la fiducia fra di noi. Io verso di loro e loro verso di me. Giovanni, allora era stato proprio il giudice Chignici a volerla, no? Lei fino a quel momento lavorava con Falcone, Falcone fece un viaggio per andare a interrogare un trafficante in Thailandia e Chignici in qualche modo lavoravano, erano amici, la scippò a lui, no? Come ricorda Rocco Chignici? Che rapporti aveva con voi della scorta? Come eravate? Rocco Chignici, oltre ad essere un bravissimo magistrato, e forse qualcuno lo ricorda purtroppo molto poco, oltre ad essere un bravo magistrato e molto preparato, Umanamente era anche una persona molto umana, infatti lui sempre pensava che se dovesse succedere un attentato o qualche cosa alla sua persona, lui non si preoccupava per sé, si preoccupava per noi. Infatti due giorni prima dell'attentato, quando siamo andati ad accompagnarlo in ufficio, siamo andati a prelevarlo e accompagnarlo in ufficio, subito dopo ci fece chiamare, ci convocò nella sua stanza, ed erano, credo, il 27 luglio. Come il consigliere teneva anche al modo di vestire, all'apparenza, non stava mai senza giacca, stava sempre con giacca e cravatta, anche con un caldo infernale. Quel pomeriggio, quando entrammo nella stanza, c'era Bartolotta e Trapassel e io, ci siamo accorti che erano in maniche di camicia, e questo ci stranizzò moltissimo. E comunque ci disse di stare attenti alle macchine di grossa cilindrata, o furgoni o motori di grossa cilindrata. Perché ci disse questo? Perché in quel periodo, in quei giorni c'era un libanese, un certo Bush, un doppio giochista, che disse che preannunciò che doveva accadere un attentato con un'autobomba ad un magistrato, comunque ad una personalità. Tutti pensarono all'alto commissario, a quel tempo dopo l'uccisione del generale della Chiesa, è stato nominato l'alto commissario De Francesco, oppure si pensava Falcone. Ecco, Giovanni, Rocco Chignici sapeva di essere stato condannato a morce. Un uomo della famiglia di Madoniera è stato visto qualche giorno prima nell'Androne, faceva evidentemente i sopralluoghi. Stava portando la sbarra a 162 mafiosi, no? Allora, torniamo a quella mattina. Lei arriva qualche minuto prima delle otto sotto casa del giudice Rocco Chignici. Ricostruiamo quegli istanti, se lei è possibile, ovviamente. Intanto, quella mattina, prima di uscire, io mi affacciavo dal mio balcone per vedere la giornata com'era e decidevo se mettere la giacca o meno. Proprio quel giorno ho deciso di non mettere né giacca, quindi non mi sono portato neanche la pistola, noi autisti avevamo anche le dotate di pistola, però a spese nostre. Comunque, sono andato a prelevare la macchina a Luciardone, che era custodita alla carcere di Palermo. Sono arrivato quasi alle 8-10, 8-5 sotto l'abitazione del consigliere Chignici e già c'era il maresciallo Bartolotta, trapasse la macchina militare che doveva chiudere una traversa laterale e più l'alfa sud, che era la macchina di scorta, ci aspettava più avanti. Quando io arrivavo, Barisciallo Bartolotta aveva per le mani una ricerca trasmittente, quel giorno lui non doveva essere neanche di servizio, quindi era un po' incavolato. E questo suo nervosismo è stato quello che mi ha salvato la vita, praticamente perché lui non aveva per le mani la ricerca trasmittente, io quando sono arrivato mi ha pregato di andare all'apprendere nell'auto di scorta, mi disse Giovanni, vai a prendere la posizione tu e involontariamente o volontariamente, forse non lo so qual è stato. Lei l'ha portato nel blindato? Io allora sono andato nell'alfa sud, che era una ventina di metri più avanti, sono andato a prenderla, mi sono seduto nella blindata, ho cominciato a fare i collegamenti e posizionarla, quindi perdo un 5-6 minuti, alzo gli occhi e guardo dallo specchietto retrovisore che il maresciallo trapasse, mi faceva il segnale che il consigliere era per le scale, ma in realtà non fu il segnale, ma fu il saluto. Il saluto, ciao Giovanni, ci vediamo, nell'aldilà. L'esplosione dopo e tutto quello che succede, Chinici non voleva che i figli lo accompagnassero mai giù nell'androne, i due bambini sono i due figli, sono stati più piccoli i primi a trovare il padre, a vederlo, insomma una settimana lei in coma, tantissime fratture per il corpo, schegge, l'udito che non è più tornato lo stesso, ma le ferite più gravi sono quelle che non si vedono, sono quelle dell'anima, si sveglia scoprendo che i suoi compagni, che il giudice Rocco Chinici, persone che tutte avevano una famiglia, lei non ce l'aveva, ma questo non rende meno grave tutto quello che è accaduto. Insomma, se lo ricorda lei quel risveglio, la sensazione, quello che le è venuto improvvisamente incontro quando ha riaperto gli occhi? Raccontare questo episodio mi stressa, però fa bene sia a me e fa bene anche a chi ci guarda per capire tra virgolette la moralità di Cosa Nostra e chi prova in quei momenti sulla propria pelle la loro moralità. Del boato e del dolore fisico onestamente non ho sentito niente completamente. Tutti mi chiedono, ma com'è, amici miei, ma io ho sentito a centinaia di distanze, ho sentito l'esplosione. Ma io non ho sentito, mi ricordo solamente di avere avviato la macchina, sapevo che io non mi stavo muovendo, sapevo che era successo qualcosa o ero inconscio, non lo so che cosa è. Mi ricordo solamente di provare una sensazione di benessere, stavo in quel momento, in quei secondi, stavo veramente bene. Ho avuto la sensazione di fluttuare per aria, che ero disteso, non so su che cosa, comunque ero disteso sicuro. E tentavo di raggiungere, come quel faro, una luce molto intensa, bianca, con la mano protesa verso questa luce, che poi si è trasformata in un rosso intenso e poi subito dopo un rosso intenso diventata nera. Dopo che è diventata nera, allora mi sono svegliato. Devo fare un attimino il ritorno, quando il consigliere ci disse... Abbiamo dei tempi purtroppo molto stretti, però ci tengo a capire come è stato questo risveglio. Allora, voglio dire, quando il consigliere ci disse di stare attenti alle macchine, ci disse se noi volevamo continuare a fare quel tipo di lavoro, non abbiamo avuto paura, io non ho avuto paura. Io la paura l'ho provata veramente quando, e ci tengo a dirlo, l'ho provata quando mi stavo risvegliando, che ero a terra pieno di sangue, con le due dita quasi staccate. Ho avuto paura di morire perché le forze mi stavano abbandonando di nuovo e non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Allora in quell'istante ho avuto paura, poi ci fu, si avvicinò una signora che mi ha aiutato. Tornare a vivere dopo, no? Pensando sono l'unico sopravvissuto, non è facile, non è facile per nessuno, tanto che lei a volte ha detto, bisogna essere nei suoi panni per capire, che l'è stato d'aiuto confrontarsi con un'altra persona, che è Giuseppe Costanza, che era l'autista di Falcone, anche lui sopravvissuto, perché è un cammino pieno di sensi di colpa, pieno di solitudine e di sofferenza. Allora la cosa che pesa di più a noi sopravvissuto, almeno per l'esperienza mia personale, è la colpa del sopravvissuto. Io mi porto dietro, io sono riuscito a chiedere scusa addirittura al figlio del giudice Chinnici nel 2000, quando gli disse scusami Giovanni che ho posteggiato. Perché scusa? Gli ho chiesto scusa perché avevo il senso di colpa di avere posteggiato la macchina proprio accanto alla 126 imbottita di Tritolo. Poi l'altra colpa di aver sopravvissuto, perché io in quel periodo avevo 27 anni, non ero sposato, non avevo figli. Quell'autobomba, sì lo so io non ho nessuna colpa, ma nessuno ha nessuna colpa. Quell'autobomba ha prodotto 11 orfani e 4 vedove. E mi sono chiesto e mi chiedo tuttora perché io sono rimasto in vita. Destino avrà deciso per me qualche cosa, che continuassi, ha deciso che io in un certo qual modo non mi arrendessi e in un altro certo qual modo io ho riscattato e vendicato, tra virgolette, perché la vendetta non deve rientrare nei nostri canoni. Ho vendicato la morte facendo un altro tipo di lavoro, la morte del consigliere Chennici. Giovanni, questo lavoro che per lei è così importante ci consente anche di trasmettere la speranza che lei testimonia. perché lei è stato chiamato proprio da Falcone, da Borsellino, per curare un archivio importante nella lotta contro la mafia. Per lei è rappresentato molto questa fiducia che le è stata attribuita. Sì, io penso che se non avesse avuto questa opportunità forse sarei impazzito, forse. Perché chi sceglie di fare un determinato lavoro, e come l'ho scelto io perché avevo lasciato le ferrovie per fare quel tipo di lavoro, per rischiare la vita, perché mi piaceva, non potere più lavorare con Falcone e Borsellino, che facevo da autista, per me era una tragedia. Siccome Borsellino conosceva la mia passione per l'informatica, in quel momento si stava istruendo il maxiprocesso, mi chiamò, mi propose se volevo continuare questo tipo di lavoro, l'informatizzazione. Io mi ricordo che ho cominciato nel marzo dell'85 ad occuparmi di informatizzare il maxiprocesso, poi il bis, il ter, il quater, fino a, mi sono occupato dell'informatica prima dell'ufficio istruzione, poi della procura della Repubblica, fino a dicembre del 2009. Quindi insomma è un'opportunità di guardia unica. Giovanni, tornando a girarci verso il nostro tavolo, una battuta se è possibile, quanto è importante come strumento per lottare contro la mafia, tra i tanti diversi strumenti, la memoria, ricordare chi ha dato la propria vita? Sì, è importantissimo, ripeto, per i ragazzi. Io spero in questo momento, se qualche ragazzo mi guarda, anche questi ragazzi che sono in studio, io non voglio imporre la mia volontà, non dico che cosa è bene, cosa è il male. Quindi dal mio racconto se traspare che cosa è il male, cosa è il bene, questo spetta agli altri giudicare che cosa bisogna fare nella vita. E la cosa più importante comunque, ognuno di voi, anche voi che avete fatto questa trasmissione, è un contributo molto importante per la lotta contro la mafia, perché più se ne parla meglio è. Uno strumento molto importante, ripeto, è questo, parlarne e raccontare ai ragazzi e fare conoscere determinati personaggi e capire qual è la morale giusta, sia o questa o quella. Grazie Giovanni, grazie di questa testimonianza.